annullato e tanti altri sfiorati e tanti altri sfiorati soprattutto nel secondo tempo abbiamo giocato con una cattiveria che non si era mai vista, cioè i falli anche quell'ultimo di buschezza centrocampo dietro, quello significa essere concentrati sulla gara significa non voler retrocedere di un centimetro quella cattiveria e quella aggressività non l'abbiamo mai vista il Barca prendeva le botte non le dava e quando le dava era sempre qualcosa di sporadico qui invece sono tutti uniti tutti che fanno pressing alto una pressione assidua una pressione stile Liverpool veramente sono rimasto stupito, io sono un estimatore voi lo sapete di questa squadra a me ha cominciato a illusionare dalla prima partita contro il Nastic e questi migliorano di più e mi mi entusiasmano sempre di più però veramente come oggi oggi abbiamo visto una squadra che è pronta a vincere tutto perché ha la mentalità per vincere tutto perché quando scendi in campo così deciso così cattivo e addirittura riesci a non farti mettere sotto dalle avversità che oggi sono state incredibili questa è una dote che è impagabile che va al di là della forza fisica e delle capacità tecniche questo è un problema di mente e se hai la testa poi le gambe rispondono e questa è la migliore garanzia per quanto riguarda l'arbitro è veramente scandaloso che un arbitro di Madrid della provincia di Madrid possa arbitrare il Barça perché al di là del fatto che sia stato mandato da Tizio o da Caio chi abbia commesso degli errori anche se non avesse commesso nessun errore se anche avesse in ipotesi avvantaggiato il Barça è inammissibile che un arbitro della provincia di Madrid possa arbitrare il Barça e viceversa un arbitro di Barcelona è assurdo che possa arbitrare il Barça solo sono in Liga perché perché in Liga ci sono delle protezioni che devono essere mantenute e degli status che devono essere mantenuti del servo grande che a un certo punto forse è stanco di prendere acqua e vento con un ruolo abbastanza anonimo ha deciso di diventare protagonista magari chiedendo una nomination all'Oscar e ha voluto essere attore protagonista in una gara nella quale se avesse continuato ad essere invisibile avrebbe fatto molto meglio alla fine il premio l'ha vinto ma non l'ha vinto l'Oscar ha vinto il Razzi Award che sapete è l'opposto è il premio che si dà al peggior attore al peggior regista al peggior scenografo e così via che dire altro solo cose positive mi è piaciuto moltissimo la combinazione Messi Coutinho hanno duettato divinamente con grande tecnica grande fantasia mai fine a se stessa ma sempre organizzata posso in essere per una giocata sempre al fine di ottenere qualcosa non c'è stata Accademia in questa partita è stata una partita giocata benissimo ma sempre al fine della giocata decisiva mi è piaciuto molto Griezmann invece Griezmann si è visto davanti è stato molto importante dietro come al solito anche Griezmann è cresciuto rispetto alla partita con il Villareal quindi veramente solo cose buone e anche la difesa la difesa guardate che nel secondo tempo è stata sottoposta comunque a una pressione incredibile soprattutto negli ultimi negli ultimi minuti non ha mollato un attimo è chiaro che la difesa non si può fare con i difensori la difesa si fa con di reparto si fa con tutta la squadra e tutta la squadra è rientrata anche Messi è rientrata però ci sono dei problemi tecnici di alcuni giocatori che sono evidenti non è che è una questione di reparto cioè Sergi Roberto alcune cose non le sa fare del difensore l'Anglais con tutto che io continuo a dire che non è da espulsione quella però è un bravissimo giocatore però poi è limitato tecnicamente cioè non è un marcatore oggi è certo oggi è certo giocare è quello che continua ad avere la peggior difesa nei singoli nel reparto anche tecnicamente si difende si difende per altri è tutta la squadra che difende non siamo capito ma se tecnicamente sei scarso si Giuseppe perdonami però però se tecnicamente sei scarso se se marchi male il giocatore se sei scarso dai per cortesia non è possiamo credere che l'Anglais è Bonucci Occhiellini o è Gentile o è Vierkwood o è Beckenbauer abbiamo pazienza l'Anglais ci difende in area di rigore l'Anglais difende a 60 metri dalla porta mettiamo Bonucci e Chiellini nel basta vedi come vengono presi di infilare ogni azione ognuno è il suo in ogni caso oggi il lavoro in difesa come dice Giuseppe forse certamente tra giroverto non è il miglior ma oggi il lavoro difensivo è andato bene ma ci fanno occasioni e il secondo giochiamo con siamo d'accordo io sono d'accordo con voi sulla partita di questa sera però non potete far passare la difesa che è quella dell'anno scorso come dei fenomeni e l'anno scorso è uno dei brocchi si difende di questa no continuiamo ad avere una difesa scarsa nei singoli nel reparto e continuiamo da cinque anni a questa parte a non rinforzarla diciamo che l'Anglais adesso stiamo parlando di questa partita e questa partita ma il merito è di Koeman ovviamente perché perché con un altro allenatore non avremmo difeso con tutta la squadra non abbiamo preso Leti perché per il sacrificio di tutta la squadra ma è Koeman che dà le disposizioni e i giocatori sono quest'anno molto reattivi e sono disposti forse perché a Koeman riconoscono tante qualità riconoscono carisma sono disposti a sacrificarsi per la causa comune cosa che negli altri anni non capitava non succedeva quello esatto Koeman ha detto dopo la partita ha detto la squadra è stata molto migliore di quello che si poteva pensare e inoltre ha sottolineato il gran lavoro collettivo nella seconda parte Fabrizio Chirotto ci dice che c'è un dato statistico che il giocatore che è corso di più è stato Busquets 11,5 km vorrei chiedervi che cosa trovate di differente tra la partita di questa sera e quella di domenica col Via Real Busquets questa partita è stata molto molto meglio della partita precedente ma perché? No oggi sicuramente contro la Villarreal è una partita che si è risolta in 30 minuti per azioni si è giocato molto bene per azioni veloci in un momento abbiamo segnato il 2-0 quindi la partita è molto risolta oggi no oggi è stata diciamo una guerra per quello che parlate delle condizioni del vento la pioggia e tutto il sforzo di giocare con 10 più da 45 minuti non è facile contro un come parlate a Palaitos che non si vinceva da 6 anni fa quindi questa è la grandissima differenza che è molto importante dopo dal modo di giocare il primo tempo che alla fine è quello che si può assimilare in più io sono molto d'accordo con Giuseppe oggi forse la prima partita non tanto ma oggi è una vittoria da Koeman oggi Koeman dimostra che ti fa un cambio totale con nove giocatori che erano giocando a Lisboa contro il Bayern e un altro che era Coutinho che lo conosciamo che non è nuovo lo conosciamo è il cambio soltanto con Juarez quindi è la stessa squadra è un altro registro completamente diverso oggi la vittoria secondo me è da Koeman e io penso in questa partita penso in i gol il primo gol si fa una pesita forse un altro anno si ha perso la palla e allo stesso tempo si ha recuperato il primo gol viene da una mobilità che forse con Suarez non c'era non dico gol ma adesso abbiamo anche un Messi Coutinho Griezmann che ci sono moventi che questo è molto importante il primo gol arriva così il terzo gol che è un gol che fa Sergio Roberto quindi minuti 39 ancora abbiamo il destino destro che arriva alla porteria contraria quindi con tutto questo sforzo fisico e tutto questo lavoro da squadra che è molto importante il terzo gol il secondo è una cosa di Messi e il terzo secondo me è una dimostrazione di tutto questo lavoro fisico che si sta facendo assolutamente sì Alberto è così sì assolutamente sì siete d'accordo su questo allora ci chiedono riassumendo un po' tutte le domande che arrivano se vi sembra Coutinho più maturo e se secondo voi se è stato lui il giocatore meglio in campo oppure anche De Jong perché per esempio ve la metto Giovanni Giovanni Rescigno eccolo ci dice De Jong è un vero fenomeno al centrocampo detta lui i tempi recupera si propone in attacco chiede palla difende e riparte un crack che pensate chi è stato man of the match Anzu che ha fatto il primo gol Coutinho di due anni fa invece questo è un Coutinho che ha voglia che non ha paura di nulla che si fa dare la palla che è sempre nel vivo dell'azione due anni fa si nascondeva dietro l'avversario e diceva a me no a me no qui invece si propone è un è un giocatore diverso è un giocatore che ha fiducia che gli è stata data fiducia sente la fiducia e stiamo parlando solo di due partite non stiamo parlando di metà campionato e ha sentito la fiducia nel corso del tempo questo ragazzo ha sentito la fiducia nel giro di un giorno e per adesso sta giocando da Dio come non l'avamo mai visto giocare forse qualche partita nei primi sei mesi appena arrivato da Liverpool che sembrava avesse veramente le ali ai piedi Koeman gli ha trovato la giusta collocazione e ha forse lavorato sulla sua testa forse è servito anche il periodo che ha che ha passato al Bayern Monaco però veramente è un giocatore diverso un giocatore che mi ha stupito oggi veramente più degli altre volte poi certo Ansufati Ansufati come fai a non celebrarlo un ragazzino che gioca come un 28enne come un crack 28enne con un'esperienza alle spalle chilometrica esperienza non è a 17 anni su Ansufati non c'è altro aggettivo da utilizzare perché si rimane senza parole e poi De Jong De Jong a un certo punto ha fatto quel passaggio di esterno destro a tagliare tutta l'area di rigore per Griezmann che purtroppo ha stoppato male ma solo quello vale il prezzo del biglietto ha orchestrato in tutta la gara anche lui è nella sua posizione cioè questo questo uomo mi riferisco a Koeman è arrivato e sembra che sia un genio pazzesco che cosa ha fatto ha messo i giocatori nelle loro posizioni se uno fa l'attaccante dice fai l'attaccante il centrocampista fai il centrocampista De Jong l'anno scorso faceva l'estremo cioè cose assurde e quest'uomo in una settimana ha rivoltato la squadra e l'ha messa a posto perché a volte l'intelligenza vale più di mille parole tutti bravi questi tre forse sopra tutti Giussi secondo te? Sì sicuramente il cutigno che stiamo vedendo è un cutigno totalmente diverso rispetto a quello che è arrivato al Barcellona probabilmente quando arrivò diciamo alla sua prima esperienza a Barcellona pesavano anche i milioni che il Barcellona ha speso per lui 160 milioni il dover dimostrare di essere un giocatore decisivo il dover sostituire Neymar sempre quel fatto che lui è arrivato per sostituire Neymar quindi doveva fare quello che faceva Neymar e alla fine è un giocatore diverso è stato per